L'informazione di LeccoFM Questo è quanto ha deciso la provincia per non lasciare ulteriormente isolato il paese che senza collegamenti stradali da oltre due settimane a causa dei nubi fragi ricorderete di inizio mese. I lavori sono stati rapidi ma il completamento definitivo dell'opera richiede alcuni tempi. Tecnici fanno sapere dalla provincia era fondamentale però riaprire il tratto per ricollegare il piccolo comune di Morterone a Ballabio alla provincia. E passiamo ora alla pagina della sanità. Tutte le sigle sindacali riunite oggi giovedì 26 giugno alle ore 14 all'ospedale Manzoni di Lecco hanno proclamato lo stato di agitazione e si accingono a proclamare anche uno sciopero generale. Questa decisione è stata presa dopo un incontro presso la prefettura di Lecco che non ha di fatto scaturito da parte dell'azienda nessuna risposta sufficiente per una possibile conciliazione rispetto alle richieste dei lavoratori. Senza medici, infermieri e operatori il numero sufficiente di reparti e di pronto soccorso si svuotano, i turni non si coprono, le liste di attesa si allungano con evidenti e spiacevoli disagi per i cittadini e pazienti, spesso costretti a code, attese, tensioni e ritardi perché i medici e gli infermieri in servizio stanno compiendo letteralmente salti mortali per garantire comunque servizi di qualità. Parole queste spese dall'assessore al welfare della regione Lombardia, Gallera, parole del 18 giugno di quest'anno che coincidono con le richieste dei lavoratori dell'ospedale di Lecco. La madre di tutti i problemi fanno sapere le sigle sindacali riunite, la necessità e il bisogno impellente di personale sanitario, riabilitativo, amministrativo, tecnico e anche di medici, naturalmente. E torniamo ora voltando pagina alla questione ex leuci, tornata alla ribalta dopo il fallimento della Lago SRL, società titolare dell'ex leuci. A oggi risulta interamente bonificato il materiale friabile in amianto, mentre l'amianto compatto risulta rimosso solamente per una quota, corrispondente a circa il 30%. Noi siamo andati sul posto insieme a Cinzia Manzoni del gruppo Aiuto Mesotelioma, Fabrizio Protti del CNA Coordinamento Nazionale Amianto e insieme ad alcuni condomini a ridosso dell'area. Dalle ore 17 in onda sui nostri canali social e sul nostro sito www.lecofm.it potete trovare tutte le interviste. E in chiusura vi lasciamo con un appuntamento tutto da non perdere, da segnarvi in agenda con la figura dell'innominato, una delle più affascinanti. Uscite dalla penna di Alessandro Manzoni, il travaglio spirituale di quest'uomo apparentemente senza coscienza e la sua conversione, l'abbraccio con il Cardinal Borromeo sono rimasti davvero scolpiti nella mente dei lettori e degli appassionati, dei promessi sposi, l'appuntamento è per domenica, 30 giugno a ore 19.30, presso la Rocca dell'innominato in zona Vercurago, la comunità pastorale Beato Serafino di Lecco con l'associazione Amici del Beato Serafino infatti proporrà, così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato, uno spettacolo di Mattia De Rinaldis per la regia di Luisa Oneto con l'esecuzione di brani di Bach, Schubert e Vivaldi. E continuate a seguire LecoFM in diretta sui nostri canali social per restare sempre aggiornati. Da Luca Cereda è tutto, appuntamento alla prossima edizione di LecoFM News.